Berne Gerode si trova sul versante nord orientale dei monti Arz, in Germania centrale, ai piedi della vetta più alta, in Brocken. La città è una delle località più affascinanti della regione. Ha saputo conservare intatti numerosi vicoli pittoreschi, sui quali si affacciano antiche case a graticcio. Grazie a tutti. L'edificio attuale del castello, terminato alla fine del XIX secolo, è simile nello stile al castello di Nezweinstein, anche se le sue fondamenta sono molto più antiche. Il castello è uno dei più visitati in Sassonia-Handa.